Coulibaly ha trovato l'accordo economico con il Chelsea Eccolo qua, eccolo qua il tweet Hanno trovato l'accordo Coulibaly e il Chelsea Il calciatore gradisce la destinazione Ora la palla passa al Napoli Potrebbe accettare Sì, mi sono dimenticato un che Tranquo, non è niente di... bravissimo Quindi Coulibaly va via il che Notizia dell'ultimo 5 minuti Il Napoli sarebbe orientato ad accettare la proposta del Chelsea Non riesco ad essere preciso sulla cifra Perché mi hanno detto che varia tra i 30 e i 37 milioni di sterline Che al cambio non so quanti sia Una quarantina, una quarantina di più di euro, credo Vediamo come va a finire Però ad oggi c'è stato uno scatto importante del Chelsea Che potrebbe portare il difensore senegalese in quel di Londra Chiaro, chiaro, chiaro Ma dove stai Faino? Questa è Questa è sul Napoli Dall'altro lato No, aspetta No, vabbè, ma che fa a duplicare? Ha già partito con i... No, però seguiamo il Faino immediatamente Se fosse vera questa notizia ci porterebbe a tutte le cose di cui parlavamo prima Perché il Napoli dell'Aurentis avrebbe bisogno di un gran colpo per farsi perdonare dai tifosi di questa cessione Quindi tutto gira, tutto sta girando Prego, prego Faino No, no, comunque mi risulta davvero che il Napoli poi la proposta a Coulibaly l'ha fatta Non so le cifre, l'ho visto un po' in giro le cifre Non me le hanno dette Io so che è stata fatta una proposta a Coulibaly Vediamo quello che succede, Manfred Perché anche la Juve voleva tantissimo il calciatore Il calciatore forse, uso il forse come ultimo gesto d'amore Magari non voleva dare ancora dispiacere ai suoi tifosi, no? Perché sappiamo, insomma, l'odio calcistico che ci sia tra Napoli e Juventus No, dai, chiamiamo la rivalità Vabbè Eh, no, ma giusto perché dai Non sarebbe considerato uno sgarro, secondo me, dai tifosi del Napoli Non lo so, non lo so Andare a andare al centro No, non lo so, non lo so Forse magari un tifoso napoletano potrebbe rimproverargli il fatto Qualora fossero vere quelle cifre, eh Perché io non so se sono vere quelle cifre che ho letto 6 milioni al giocatore, eccetera Non lo so se fossero vere quelle cifre Ma qualora fossero vere, usiamo sempre i condizionali giusti Magari un tifoso napoletano potrebbe rimproverargli quello, Manfred Ma è qui, se parte di bala la Juve chi prende al volo, scusami Ragazzi, per me, io l'ho sempre detto, poi magari mi sbaglierò Ma è una sensazione mia che se dovesse uscire De Ligt La mia sensazione è che la Juve vada su Bremer Qui continuano a dire tutti quanti Però dicono di avere un accordo con l'Inter No, io ho parlato anche Io ho parlato di questo accordo Io ho detto che Juventus e Inter hanno due accordi in mano con Bremer E io ho scritto che il primo che cede prende Bremer Adesso io ho sentito il buon Fabio che è autorevolissimo sull'Inter E il buon Fabio mi continua a ripetere che Bremer è slegata da Skriniar Io ho difficoltà a pensare che sia slegata da Skriniar L'ha detto anche Biasin, ma è una parte dell'era Perché è vero, no ma è vero, Manfred, ascoltami Perché è vero il fatto che si dice che uno esce e l'altro entra In effetti uno dall'Inter è uscito Che è Ranocchia Però io non penso, adesso spero per loro, con tutto il bene del mondo Spero che loro possano sostituire Ranocchia con Bremer Sarebbe un salto di qualità enorme Però i miei dubbi Cioè io al posto di Ranocchia vedo uno più come Acerbi Ok? Perfetto E io in questo momento continuo a pensare Che se la Juve dovesse cedere prima dell'Ict E anche lì la strada Non è proprio tracciatissima Però diciamo che potrebbe portare in Germania Manca ancora qualcosina Proprio stamattina ho delle news su dell'Ict Sull'incontro di ieri C'è la buona volontà Ma manca ancora qualcosina Vediamo Però se dovesse uscire dell'Ict Prima di Skriniar Magari lì la Juve va su Bremer Ne parliamo subito Allora Fabio Penso che il capitolo argomento Che sono Di Bala e Bremer Prima di chiederti Ti faccio vedere questo post del buon Musmarra Sì l'ho appena visto L'ho appena visto Scusa farlo vedere a tutti Capitolo Di Bala Con l'arrivo di Lukaku Lì c'era più vabbè Eccetera 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 Il reparto è completo E ad oggi la pista è chiusa Questo anche per evitare i prossimi Soffiato all'Inter Quindi lui già ci vede Un articolo di giornale Che diranno soffiato all'Inter Già si para Più Di Bala Più Di Bala si è vicina E più Alfio che saluta A un amico gli faccio anche l'in bocca al lupo Perché ha avuto un piccolo intervento Sì vero vero In bocca al lupo ad Alfio Flutiamo Alfio E l'ho anche sentito Sta meglio Anzi Però mi spiace Ecco questo è un articolo Che vuole fare Un po' Giustamente fa bene Perché le tv Devono attirare attenzione Come i giornali Quindi Proprio nel momento in cui Anche in maniera razionale Tra l'altro saluto la chat E gli ospiti che non conosco E dicevo anche in maniera razionale Perché Perché Si dovrebbe dare una buona uscita a Sanchez Per cosa Lo tieni lì Se non entra nessuno Lo tieni lì E poi ci penserai Anzi Lo fai cuocere Perché tanto Tu pagare lo devi pagare Dagli 5 Gli dai 7 E lo tieni lì E gli fai fare la quinta punta Quindi voglio dire Perché devi accelerare una buona uscita Perché devi parlare con Geko Come arrivano voci Perché Soprattutto perché Si sa che In questo momento L'entrata di Di Bala È proprio Al posto di Sanchez Non ci sono altri giocatori Che devono essere ceduti Di Geko Probabilmente verrà ceduto Potrebbe rimanere magari Fino ai mondiali E fare addirittura la quinta punta E poi andare via a gennaio Ma l'uscita di Sanchez È proprio indicativa Tu prevedi un attacco A 5 punte Con tutti i 5 No no Ho solo detto che Geko Potrebbe non andare via Io credo che alla fine Andrà via Io so che andrà via anche Geko Perché Correa ragazzi L'anno scorso era il titolare Le migliori partite in attacco Lautaro le ha fatte con Correa Correa era il titolare Si arriva Lukaku Correa è la riserva di Lukaku E Di Bala è L'altro titolare Insieme a Lautaro O con i due davanti Ok Con Correa Al posto di Lukaku Di Lukaku In caso di sostituzione Ma giocheranno magari anche in tre Alcune partite Però Di Bala Più si fanno Questi tipi di Ma l'Inter ragazzi Per due milioni Giustamente Zank si è arrabbiato Nell'operazione Di Lukaku Ma anche l'operazione di Lukaku Fu accelerata Perché all'Inter C'era manumore In quei giorni Perché tutti sapevano Che Schinian andava via E quindi il presidente Ha accelerato L'ingresso di Lukaku Con la riunione A Forte dei Marmi E l'accelerata Improvvisa Di Bala Entrerà Entrerà Quando Schinian andrà via Allora Per addolcire Per addolcire La pillola Non ho mai detto Che si è fatta Vorrei rispondere al chat Mai Ho detto Che la fonte Che mi aveva detto Che Cialanauro È un giocatore Che piace sempre Rompere i coglioni Non ho mai detto Ho detto Che la fonte Che mi aveva dato Per fatto Il 29 aprile Ciala all'Inter Quindi prima Che purtroppo Eriksen Si facesse male Al cuore Quindi non era Una questione Legata A Eriksen Ma come sempre Era una marottata A zero Ok Io La stessa fonte Mi ha detto So che l'Inter È interessata Ma queste erano le parole Anche dell'Inter E di Conte Poi non si è fatta Non ho mai detto Che Chessis Avrebbe stato un giocatore Dell'Inter Ok Ok Però Però Non ho detto A tre anni Che Zagnolo Andava alla Juve Però nessuno lo dice A parte che si Sì ecco Grazie che ci introduci Alla Roma Ascio Tre anni Che dalla Spezia Mi chiamano Ci sono voci Che danno Ho lavorato con 50 parlamentari Della zona Gente che conosce Lì è pronto Va a Roma E temporeggia Quando lo dicevo Camellio Fa Ho detto Zagnolo Va solo alla Juve Ma che mina Zagnolo Juve è una mia notizia Ezio Greggio Che è simbato Ecco 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 Ci sono voci Molto autorevoli Come Ezio Greggio Garoasio Che danno Zagnolo Per fatta Alla Juve Adesso Non so Non so se tu Te la senti Però Ezio Greggio Ci ha sempre preso Prese Vlaovic Diciamo che Il buon Ezio Greggio Ovviamente sta a fare O scupe Sull'acqua galla Perché Osano pure i muri Che la Juve È forte Su Zagnolo È pur vero Che ad oggi Non è stata recapitata Nessuna offerta ufficiale È pur vero Che la Juve Continua a parlare Solo con Bigorelli Ma c'è l'intenzione Attualmente Di portare Zagnolo Alla Juve La Juve Non ha fretta Perché ha altre situazioni Da sbrigarsi Soprattutto in difesa Con l'uscita delitto Quindi all'occorrenza Se arrivi uno start definitivo Tra cui a qualche tempo Di un Zagnolo Alla Juve Ripeto Ha fatta la scoperta Dell'acqua galla È zio Greggio Sì 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 E invece E invece Rispetto a quelli che dicono Tra cui credo Il tuo amico Camelio Che è di bala È Il sostituto di Zagnolo Come la vede? Beh Tanta roba Cazzo Mantiene tanta roba Il giocatore importante È vero che A livello anagrafico Perdi in qualcosa Il Zagnolo 23 E di bala Ne farà 30 Però le qualità Indiscusse De di bala Insomma Le conosciamo un po' tutti Sarebbe una grande Un grande colpo Un grande sostituto Soprattutto Conoscerà subito Senza che vai all'estero Conoscerà subito Il campione italiano Ha sempre giocato qui È un giocatore importante Benvenga Manfredo E io ho visto un tweet Di Angelo Mangiante Che ve lo faccio vedere Che però non mette Non scrive niente Io credo Non so perché Che si riferisca alla Roma Però non so perché Ho visto i commenti Anche so Te credo È da Roma Per quello dici È da Roma Mangiante Quindi Eh ragazzi Quindi È probabile Sta cosa Senza la Champions Si sta allenando Per andare alla Roma Si sta scaldando Per andare alla Roma Antune è entrato Nella sede della Roma È uscito Dalla sede della Roma E Ha parlato Di offerta scritta 5 più 1 Con le presenze Giusto o no Chiedo No non lo so Fabio Mi posso parlare Di una cosa vecchia Così chiudiamo Per sempre una questione Non è che parli Fabio Non è che parli Di una cosa vecchia Sta a sentire a te Se il mercato All'Inter Fa spesa In scena una lira Per dire no Cioè secondo te Vengono tutti all'Inter Sta a sentire a te Vengono tutti Quello va all'Inter Quell'altro va all'Inter Quello tutti all'Inter Vengono Dal mercato in Italia Fa solo l'Inter C'è stanno pure l'altro C'è possibilità Che i giocatori Vadano anche In altre parti Oltre l'Inter No per capire Se il Milan Fa mercato Campione d'Italia Una merda Questi fanno mercato Il Milan Fa mercato A Juve Si è fermata così Fa mercato La Lazio Adalanta Adesso vediamo Adesso vediamo anche il Monza Stamattina ho fatto un po' Di 20 minuti Ho parlato di Di magia Di Pogba Delle altre Di tutte Cosa c'entra In questo momento È un dato di Il dato di fatto È che l'Inter Ci sta in polla D'aprile Fabio Tu parli del 28 aprile E qua c'è gente Che l'ha dato Prima del 28 È da inizio aprile Che c'è sta l'Inter Cioè sono tre mesi Sono tre mesi Che in polla In polla In polla In polla Prima doveva sci Prima doveva sci Uno tra Zeke e Sanchez Adesso ne esci Skriniar Fra un po' Deve sci in Marotta Non ho detto Che deve uscire Skriniar Ho detto che Per addolcire No però Fatti un caffè Stefano Che tu poi Come faccio un caffè Perché parti sempre Con sto spiegando Ma quello è uscito Dall'Inter Ma quello è uscito Dall'Inter Ho detto che per addolcire La pillola Dell'uscita di Skriniar Quindi ti ho dato Notizia Molto triste Per addolcire Così come Lukaku Anticipato Perché l'umore All'Inter era basso Probabilmente Di balla Andrà a pareggiare Il grande dolore Per Skriniar Vorrei chiudere Una storia Vecchia È inutile Che la gente Mi rompa i coglioni Per Merton Stonali Di quell'anno De Paul Ok Perché l'Inter Ha sempre fatto Mercato Nella medesima maniera Marottiana Cioè andando a prendere Giocatori Sei mesi Otto mesi prima Però se la gente Non capisce di calcio Dovrebbe non venire Sulle trasmissioni di calcio Allora L'Inter ha fatto Il mercato Quando è arrivato Conte Poi sono arrivati La pandemia Il covid I casini Le ristrettezze Il governo cinese Per noi Per altre squadre L'Inter Non cambia modo Di far mercato Che Marotta Lavora in anticipo Cosa succede Nel 2020 A Villa Bellini Succede che Marotta Lavora In anticipo Su Tonali Poi di Cellino Su Mertens Parole anche di Yolanda Lavora sugli stessi profili Solo che Il mercato È stato fatto Come quest'anno Nana E tutti gli altri Che erano già a zero Fatto in anticipo Arriva una telefonata E dice Pandemia Problemi Cina eccetera Rimanete Non va via nessuno Non sta a nessuno L'Inter fa zero acquisti Se non ha chimico E sono di caldi E non entra Non esce nessuno Non vende neanche Quindi l'Inter fa Mercato prima Ma non può portare a termine Quelle operazioni Perché il presidente dice Non si può Non è che i dirigenti Durante l'anno Siano fatti i segoni Aveva lavorato Ok Come hanno lavorato quest'anno Con la differenza Che quest'anno L'operazioni sono state portate a termine Fabio Tu escludi No no Rimaniamo su quest'anno Rimanete capire il mercato Ok Ma tu escludi Che di Bala Posso andare alla Roma No no I nomi erano Corretti Ed erano già all'Inter Poi se uno chiama E dice Pronto Questi affari non si fanno Come ha detto L'agente di Wijnaldum Quando io ho detto Wijnaldum E l'Inter si stanno O anzi L'Inter è interessata A Wijnaldum La gente ha detto L'Inter è stata L'unica squadra seria Che ha fatto un'offerta Per Wijnaldum Poi la proprietà Ha bloccato l'operazione È diverso da dire Sono sistemi Ok Quest'anno Nessuno ha bloccato niente Sono tre mercati diversi Fai i mercati Nel stesso modo Solo che Nel 2020 viene bloccato Nel 2021 L'anno scorso Viene detto Dobbiamo soprattutto vendere Quest'anno Dobbiamo fare Quello che stiamo facendo Ok Fabio Però Tornando al Però tutte le robe Che rompono sempre Ma vanno Sono dei miserabili Rompicoglioni Di merda Ma tu lo escludi Quest'anno Che succeda Questa cosa qua Il problema È che non capiscono Di calcio È violenta Il calcio No Ma come no Ma sono operazioni Ma notte Lavoro in questo modo Poi se il presidente dice Non puoi farle L'ha detto Cervino Ma sicuramente è possibile Che succeda con Di Bala No Stavo rispondendo a robe Ho detto Fammi chiudere una roba Di due anni fa Perché c'è sempre il pirla Ma Chi la pensa diversamente Che Di Bala Che Di Bala Possa andare alla Roma No Io credo Di Bala va all'Inter Sulla presentazione Di Bala va all'Inter Ma secondo Ragazzi Seriamente Ma secondo voi Marotta Dice Speriamo che giochi da noi E vola nell'aria Fa entrare Antunda La porta principale In Porta Garibaldi E poi Di Bala Non gioca da noi Ma siete seri No ma su questo Fabio Ma stiamo scherzando 28 anni Entra la pinettina Il giorno dopo Vale 40 milioni Ma al posto di Sanchez Che prende lo stesso stipendio Ma siete seri Cioè Marotta Si fa scappare il giocatore Ma basta Prima Prima c'erano Prima c'erano Dei ragazzi Con la fine Prima c'erano Dei ragazzi Diciamo Che coprono L'area del Napoli E dei giornalisti Che mi seguo Anche sui social E ovviamente Con loro Abbiamo anche parlato Di quella che è Secondo alcuni Una pista Napoli La suggestione Quello che io Ho detto loro È proprio questo Ho detto L'Inter in questo momento In rosa Ha dei giocatori Comunque Anche di personalità Dall'ingaggio pesante E non li deve fare Indispettire Tipo Sanchez O Correa Che numericamente Danno Tra virgolette Fastidio a Di Bala Quindi anche per Carineria Perché l'Inter È una società Che si sta comportando Comunque con i propri giocatori Almeno mediaticamente Bene Si cerca di evitare Di far capire Che c'è già Il sorcio in bocca Anche se è brutto Dire sorcio in bocca E quindi Far andare via Sanchez Che invece sui social Sta rompendo un po' Le scatole all'Inter Per restare E' Correa Che è appena arrivato All'Inter E di fatto Dovrebbe essere Scalzato Da uno dei suoi migliori amici Perché Di Bala E Correa Sono molto amici Tra l'altro Se non erro All'Argentina Tendono a chiamare Più Correa Che Di Bala Se non erro In nazionale Mi sembra di ricordare così Delle ultime partite Abbiamo interrotto Salina Non so che stava dicendo Sì Prima di Davi Faccio entrare L'unico che sa La verità Così subito A gamba tesa Zagnolo Molto probabile Vicinissimo Alla Juve E a Torino Ha fatto le visite Anche la settimana scorsa No 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 Eh va bene L'hanno descritto Fumata bianca Nera Grigia Rossa Tutte fumogeni È successo Facciamo finire Faina Io rischio la vita E poi Come rischi la vita E beh Quando Vai Dimmi No dico Rischio la vita I più fenomeni L'abbiamo postati L'hanno scritto Ma io porto rispetto Però io dico Che non è vero Quello che sta succedendo La settimana scorsa Citate le fonti Damiano E anche con Stefano E mi hanno dato retta Per fortuna Ogni tanto Stefano Mi ascolta E quindi Tutti sul cavallo Citate le fonti di Camellio Ah quello Lasciamo perdere proprio Eh Facciamo perdere Dunque Non è tanto quello Perché quello che fa Ezio Greggio Ragazzi È Non è calciopare Mercato È in pronostico Però va bene Ci sta È carino Ah non la manca Ha scritto lui Ma l'avranno scritto Quelli che gestiscono I social Ma sì Ma ci sta Ma va bene Colore Detto questo Su Dybala Io mi trovo In parte In gran parte D'accordo con quello Che dice Fabio Tra l'altro Voglio aggiungere Che in settimana L'Inter Sta cercando Di sbolognare Alexis Sanchez Mi giunge Una proposta Fatta Non so se risulta Fabio Una proposta Fatta a Felicevic Nella giornata di ieri Di 5 milioni di euro Di buona uscita Io poi Non so Non so se sia vera Una roba del genere La prima è stata Quattro È stata rifiutata Ed è stata rifiutata Lui li vorrebbe tutti Si vorrebbe 7 Perché in questo momento Sì lui sarebbe Senza squadra Nei campionati In cui vorrebbe giocare Secondo me Ma secondo me Lui la squadra Già c'è là Fabio Ma Sanchez Fino a che Fino a quanti anni Ha di contratto Fabio Secondo me Lui Quindi tu al posto Di darglieli E tenerlo Glieli dai Per farlo andare via Ma grazie Esatto Chiediti perché Vabbè Manfre Con la buona uscita Credo Scusami Roberto Poi ti lascio subito parlare Credo Credo E non vorrei dire Una stronzata Ma se tu dai Una buona uscita Al calciatore Non paghi lo stesso Quantitativo De tasse Perché lo stipendio Ti viene 7 milioni Più Praticamente Altri 7 Di tasse Gira e mettete bene Se gli dai La buona uscita Credo che ti viene Molto meno Il livello De tasse Quindi l'Inter Andrebbe a risparmiare Una sorta come 7-8 milioni E roba del genere No Dicevo che Questa cifra Che ha detto Che ha detto benissimo Il Faina Tra l'altro Sono un suo grande fan E sono stato il primo A dire Fermi Fermi Piccola parentesi Sono stato il primo A dire Che il nostro Faina Il vostro Faina Faina È più famoso Di Faina Di calciomercato E gli hanno detto Pure a calciomercato In diretta Vero Abbiamo visto Quella clip Vero Vero Dicevo che Questi 5 milioni Di buon uscita In realtà In Italia Li hanno importati Mandzukic E Kedira Quando non volevano andare via Dalla Juventus Esatto E hanno detto Alla Juventus Velocemente Hanno detto T'abbiamo portato A vincere Gli scudetti T'abbiamo portato In finale di Champions Chi più Chi meno E quindi Adesso ti permetti Cristiano Ronaldo Al quale dai 30 milioni E a noi Ci mandi via A zero E no 5 milioni Di buon uscita E quindi Questo Sanchez Vuole Detto Roby Che in teoria Abbiamo fatto uno speciale Inter e Juve Non hanno le stesse Situazioni finanziarie Da una parte C'è uno che dice Quanto manca Quella E la razio E dall'altro E la razio C'è un grande Dottore come Sanchez No però Roberto Devi aggiungere Che l'Inter Zang Fa le scenate Esteriche E ha ragione Perché il Chelsea Vuole un milione e mezzo In più In un'operazione Che si era chiusa In un weekend E poi cambia qualcosa E succede Il finimondo In sede Anche Guara Avuto qua Ve l'avevo raccontato E' successo Il finimondo Per un milione e mezzo Qui stiamo dicendo Che un calciatore Nostro Che ha fatto anche bene I campioni Sono a sì Che ha fatto vincere Una coppa Che ha tanta voglia Di fare Che tecnicamente Non si discute Che comunque Ha sempre fatto Il panchinaro E lui non voleva farlo Ma tale è stato Dove tu vai Bussi Chiami il suo agente E gli dici Grazie di tutto Ti vorremmo fare Un'offerta Ma perché gliela fai Se per un milione e mezzo Stava saltando Ancora un po' L'arrivo di Lukaku Se gliela fai Perché c'è uno che entra Ma vogliamo essere razionari O vogliamo vivere Che nuvole Tra l'altro L'Intern Abbiamo anche provato Il trequartista In Zaghi Abbiamo provato Il trequartista Nella amichevole Vinta 10 a 0 Quindi potrebbe essere Anche un segnale Bella quella È vero Ha provato Correa Dietro le due putte Potrebbe essere un segnale Vero 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 Grande Francesca Entra di bala Poi Dzeko Ci sarà tempo Per guardare Ha provato il 3-4-1-2 Contro la milanese Vero Oggi c'è L'altra partita Con Lugano Se non erro Leggermente più seria Però Chiudiamo Spostiamoci sulla Roma Asso Camelio Asso tu sei così Ma scusate Con tutto il rispetto Per le squadre Ma non mi fate Come i media nazionali Non mi fate Come i media nazionali Perché ragazzi Qui c'è Una regina del calciomercato Credo fino ad oggi Si chiama SS Lazio Ma è proprio Allora scusate Perdonatemi Ma scusate Perdonatemi Ma che ha fatto Io sto vedendo Scusate Sto vedendo In Italia Sto vedendo Magnoli Sto vedendo In Italia Sto vedendo Posso parlare Sto vedendo Sto vedendo Parlare Vado a mangiare Di secolo là No Meglio Meglio Io sto vedendo Ciao Fabio Ciao Fabio Apri il giornale Apri i giornali La mattina E vedo Il Monza E su Guarez E quello La presentazione De Lukaku La presentazione De Bogba La presentazione Di Maria La Roma tratta Ronaldo Ronaldo Il 7 luglio A Roma E poi Alassio Prende Un giocatore Al giorno Perché Alassio Sta prendendo Un calciatore Al giorno Tutti i bei Prospetti Non ci possiamo Permettere Lo stipendio De Bogba E appunto Prende pure 300 Patrick E allora Non ne parliamo Sì Ma ne parliamo Ma sta prendendo I mezzi giocatori Ma scusa Il capitano Dei campioni Prende sensi Ma se il capitano Stava in panchina Non è che era Falcao Ma scusa Amica Meglio Prende sensi Il Monza Tutti i giornali Il ritorno De Pessina Ma lì ci sarà Berlusconi Giocatori Pessina Giocatori Oh Pessina Rispetto Quando Vente L'Orope Ora Pessina Io sono d'accordo Però Niente di eccezionale Però No 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 È detto Solo Niente di eccezionale Buon giocatore Ma Casale Sarà peggio Come Peso specifico Ma posso parlare Non mi chiamate Non mi parlo Da 9 e mezza Nessuno ti ha chiamato Nessuno ti ha chiamato Prego signor Potevi pure Sandro Stagli No Dicevo Ecco le viste Mediche di Romagnoli L'Alessio prende Un giocatore al giorno Preleva Una storia bellissima Quella da Alessio Romagnoli Perché Perché Silenzio Silenzio Capitano Capitano Dei campioni D'Italia Alza lo scudetto E finalmente Torna nella squadra Che ti fava Da bambino E nessuno ne parte Alla mettiamoci Asso a far Centrocafista Da Roma Ma che cazzo Me ne frega E nessuno ne parla E nessuno ne parla Che bella storia Va bene così Posso rispondere O Mercato intelligente Ma tu mi chiami Perché Lei è nervosetto Oggi Lei è nervosetto Ne abbiamo parlato Ieri Con Carlo Aspetta Aspetta Manfred C'è qualcuno Che c'è un ventilatore Ma chi è che c'ha Liveco acceso Secondo me c'è lui Lo sapevo No Sì sì È proprio No Ma sei tu Ma che non c'ho Niente È spento Ma ce l'ho qua sopra Secondo me Non so cosa sia Però No non è il mio Ascio Camelo Allora che fate Chiedete scusa La Lazio Chi va Quando tu mamma Non ti fai offerte Le persone così Io Io Per mettermi Il tuo sito Il riti su La Lazio Ho sentito Le quattro cazzate De risposta De Bergo Mi manco Risposto Per non perde tempo Perché Perché il porto perde tempo Sparo sulla croce russa Non mi diverso No manca a far così Non mi diverso Marco richiamate Però esatto Però io sono un grande fan Anche di Asso di Roma Lo dico Vabbè Ma a vedere se ti piacciono tutti Sì vabbè Ma questo è incredibile Un grande fan di Camelio Che si chiama Come il coglione di Milanova No però dico Asso Se certe cose Le hai dovevi dire A Fabio Le hai dovevi dire Quando c'è Questo siamo d'accordo Ma io gli dico Penso che le prime esternazioni Che ho fatto Bastino per fare una live In terra Non serve che rispondo Ma veniamo a noi Veniamo a noi Asso Ma tu quindi ci credi A Di Bala Come in titolo a sport No io Quello che non ha capito Fabio Perché gli piace Fa tutto il saccente Io non capisco Perché Non lo chiamano A lavorare Enrico Perché lui gli è dato Il posto De lavoro in radio Non lo chiamano a Sky A lavorare con Di Marci O Damiano Se mette a lavorare con Damiano O porta un trasmissione Perché io non capisco Eppure sta sempre su Youtube Capito Tutte le fonti Delle fonti Dalla Ferrarelle Dell'Acqua Paola Dalla San Benedetto Sta sempre qui Però vabbè Comunque Quello che ha capito Il buon Fabio È che nessuno ha detto Che l'Inter Non c'è più Su Di Bala Io l'ho detto anche ieri sera L'Inter per me Rimane ancora Tutto oggi in polle Da inizio aprile Che sta in polle Rimane tutt'oggi in polle Però come parla lui Ma il procuratore È uscito Dalla sede dell'Inter Ma io capisco tutto Ma non puoi dire Che se è venuto Un sede Dall'Inter Un po' Nanna Sede del Milan Da Juve Da Roma Cioè non mi sembra Che i procuratori Una volta che parlano Con una squadra Non parlano più Con nessuno È questo che io contestavo Noi il fatto che Di Bala Non possa andare lì Può andare ancora All'Inter Cioè mancherebbe altro Rimane in polle L'Inter No? Però abbi pazienza Non mette davanti Sempre il pretesto È perché Antun Anfan Angul Capito? È venuto Ha parlato all'Inter E parla più con nessuno È vero Perché Perché il buon Antun È il resto Dall'enturagge Da Di Bala Ha parlato pure Che a Roma Ha parlato Che a Roma Da dire Ha parlato anche Con Galliani C'è stato qualche Contatto telefonico Pure col Monza Quindi Ovviamente Non è Non è La prima destinazione Però Chiaramente Ha parlato Con più realtà E tra queste C'è anche il Monza C'è stato un sondaggio Ecco Ecco Sentiamo Camelio Cosa ci può dire Anche Meno male Meno male Io non vorrei essere D'accordo Con Stefano A prescindere Però Detto questo Ah e ci avete oggi No non solo Non solo E ha parlato Credo tre volte Gli ultimi giorni Con la Roma Quindi se tu parli tre volte La Roma Con l'enturagge del giocatore Qualcuno stanno scherzando Stai parlando di Di Bala Di Bala Di Bala Di Bala Ho parlato tre volte Con la Roma Stanno questa Sì 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 E quindi qualcosa Cosa sta succedendo Poi magari Abbiamo spiegato mille volte A tutti quanti I ragazzi del mercato Poi Di Bala Va all'Inter E sei un cazzato Ma se hanno parlato Noi facciamo comunicazione Lo dobbiamo dire Noi abbiamo detto Il 26 aprile Di questa storia di Di Bala Alla Roma Con tanto di prove Io auguro a Mourinho Che non Spero un giorno Non dica Che non è vero Che sennò dopo Sono costretto A tirar fuori le prove Quindi mettere questa Questo Globate Clip Beh clip Perché insomma A meno che Di Bala E' amico con Mourinho Dà una vita E si sentono E vanno in vacanza insieme Ma visto che sono Sei generazioni di differenza Io Non ci credo Quindi io confermo Questa cosa qui Su Zagnolo Io che la direi Non mi fate più domande Sky ha detto Che hanno raggiunto l'accordo Io mi sento di dire Quindi non smettisco loro Ma non c'è nessun accordo Ok Non dico adesso Non è normale Manfre ma è normale Cioè nel senso Lo sanno tutti Che ad oggi L'Inter rimane in polle Ma come è in polle Da aprile Da inizio di aprile Manfre C'è grande possibilità Ancora che va Nonostante il tempo scorre Il tempo è sempre di meno E sta telenovela Dovrà finire un po' Perché non può rimanere Senza la squadra Alla lunga E rimane in polle L'Inter Ma quello che ripeto Che va Cioè va capito Non è che se ha parlato Solo con l'Inter Non parla con le altre social Pure Simone Schillagio Ma anche con il Milan Hanno parlato Ha parlato con il Milan Si è fatto avanti Il Monza per dire Cioè ci parlano E ci ha parlato Il ruolo sulle parole Di Mourinho Che si è detto Frustrato dal mercato Ma so young chapo Ma scusa una cosa Manfre Ma che cazzo Scusa Manfre Una curiosità Ma so young chapo Un chapo Che cazzo vuole Che m'ha colla Ti ha detto Ma che vuole da me Che sono il primo E' l'unico Forse uno dei pochi Che deve sempre E te c'è in cazzo Ma che vuole da me Che mi si accomodano Young chapo Young chapo Grande young chapo 47 Non ti ha detto niente di che Ma perché Si mette da me questo Allora Ricordandovi l'appuntamento Poi di domani sera Sulle speciali romane Chiudiamo Ascio e Camelio Ci sono le parole Di Mourinho Che si dice Frustrato dal mercato Che ne pensate Ma io Stai formato io Stavolta Ma io ti dico che Lo sapete Su Mourinho Non è che c'ho tutta questa stima Da quando sta la Roma Ok Perché io ero anche in radio Ho bisticciato Lo posso dire Con Enrico Maida Sì scusa Roberto Maida Quella dello sport Dice no Gli acquisti che sono andati male Non l'ha presi lui No no Mourinho decide tutto Quindi Metal Nines Oliveira Che qui Compreso Manfredi E mi dicevi che era un fenomeno A 3 milioni è andato in Turchia A 3 milioni Ok Qui mi hai rotti i coglioni Grande delusione No no E per non parlare di Zaccaria Un altro Ok E lo stesso E vale per Scusami per Chi è che l'altro che ha fallito Ah verso Mourinho Quindi Se lì che l'ha voluto lui O non decide Fatemi capire O l'usolo Ebram Ebbene Ebram Sono buono Puglia nella Pia Caccio 50 milioni Quindi crederei che Mourinho Non mette in difficoltà la Roma La facesse lavorare Perché queste cose mettono pressione E per me sbaglia Per me sbaglia Pensa a lavorare Guadagni 7 milioni e mezzo E pensa a portare i risultati L'anno scorso L'hai portato con la Coppa Con un campionato Direi quasi Quasi leggermente fallimentare Perché siamo arrivati sotto La Lazio De Patrick e Company Comunque adesso Per me non mi piace Come si sta Già questa pressione Non mi piace Lo dico Lo dico prima La regina del mercato Se lì che poi Romagnoli invece Voglio dire una cosa A Damiana E poi Romagnoli Però non mi dite Che ha fatto il capitano Alzato la Coppa Se no noi ci mettiamo Momo Alla sinistra Astro Quarto ragazzi Quarto ragazzi Quarti rispetto al capitano Campione di Italia Aspetta e finisco E il Nazionale Ha giocato Queste ultime battite A Cerbi Che qui era un casino Cioè a posto suo Ma per rendere conto È un giocatore Puoi parlare forse A qualche radio locale Quando sei Ma non è locale Oggi è il compleanno Di Melli Quando sei Tanti auguri a Franco Melli Quando sei In un canale social La tua voce Arriva In tutta la nazione Ok Perché se tu Fai passare Questo messaggio Su Alessio Romagnoli Stai screditando Un calciatore Che è Campione d'Italia Con il Milan Perché è vero Che magari Ha perso il posto Nella seconda parte Di stagione Ai danni Ai danni A favore Di Calulu Aspetta Concludo Fatemi concludere il concetto A favore Di Calulu Però Alessio Romagnoli Si è fatto sei anni Manfre Sette anni De Milan Quanti si è fatti Arrivato a Milano Quando sono arrivato io Sette anni Sette anni De Milan Si è fatto Ha sempre giocato Ha sempre giocato E ripeto Il Milan Con tutto il bene Non è il Monza Si chiama Milan Si chiama Milan Il Milan Amico mio È la società italiana Con più trofei europei vinti Ma il periodo suo Si chiama sempre Milan Si chiama sempre Milan Detto questo Io non sottovaluterei Il fatto che Alessio Romagnoli È tifoso laziale Perché sappiamo Che la fede Quando giochi Nella tua squadra Può fare tanto Ce lo ricordiamo Con l'alderby Goal al derby Goal al derby Stefano ti ricordi Annoni Come no Ma sono i primi Eh ma Dico cazzo Era pure Dalla Roma Ma che cazzo Ma io voglio dire una cosa Una cosa sola Manfred Anche il Zunzi Anche il Zunzi E' il campione del mondo Che la Francia O dalla panchina Anche il Zunzi Sì ma scusa Romagnoli Romagnoli il suo l'ha fatto Ha 19 presenze In campionato Alessio Romagnoli Ma mica ne è mai sceso Un campo Ma studiate le statistiche Regà Perché fa Scusate Fa 19 presenze Il suo l'ha fatto Fa 19 presenze Fa 19 presenze Segna pure un gol Ce l'ho qua davanti Se non erro Era titolare Segna pure un gol Sì Assolutamente sì Segna pure un gol Vabbè Nel calo Damiano Se può dire però Ma sì Ma non è Ma non è colpa sua Non è colpa sua Ha partecipato Dei liti tecnici Mentre Zunzi Mentre Zunzi N'ha fatto un minuto Come barone Nel 2006 Alessio Romagnoli Ma poi se vi faccio pure il culo Ma cazzo Ma lì stava con Pogba E No ha partecipato Cioè Questa è la media Di Alessio Romagnoli L'altro anno Un campionato Fa 74 minuti a partita Diteme voi Camelio devi studiare Tu Camelio devi studiare No no Tu quando parli No tu devi studiare Perché se Alessio Romagnoli Fa 19 presenze E fa 1400 minuti E gioca 74 minuti a partita Vuol dire che il contributo D'Alessio Romagnoli È stato È stato fatto Per famiglia Ma c'è poco da rispondere Rispondi subito Ma un attimo Un attimo Harry Ti faccio rispondere subito È un video Mi hanno detto Occhio perché Sbugiardiamo Come il fai in alto Vediamo 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 Non vediamo niente noi Un attimo Fammelo mettere È una carica regia Vai È una grandissima emozione Quell'Olimpico Davanti Davanti a Alla mia cura Alla gente romanista Come me Ma che video Ma che video è Scusate Ma c'ha 16 anni A quel video Ma cambiato squadra Ma quale cambiato squadra Enrico Ma che deve dire No non lo so Chiedo Che cazzo ne so Ma che deve dire Queste sono cose che si attacche Che va attaccate Ma Alessio Ma Alessio è una vaustadio Ma Alessio è una vaustadio Ma Alessio è una vaustadio Ragazzi Alessio si metteva Ma Alessio Ma Alessio Ma Alessio Ma Alessio Ma Alessio Scherzi a parte Scusate Ma siccome Lo sono andato a prendere io Quando è arrivato a Milano Perché c'era Miajlovic L'ha voluto lui C'era una foto Di Romagnoli Con la maglia della Lazio Da giovane Che girava Diciamo Con la maglia della Lazio Attuale al 2015 Era una maglia Macron Ma la troverete online E Romagnoli Chiese di non farla Tra virgolette Vedere Perché Stava solo trattando Dalla Roma Al Milan E quindi non voleva fare Anche lì La persona Poco professionale Ragazzi Lo sappiamo tutti Io vi saluto Ma chiudo Perché è stato Probabilmente Trovato Il motivo Della separazione Tra Totti e Ilari Fare al matrimonio La foto è da confermare Pare ci fosse Matteo Salvini A fare gli auguri Ma È da confermare Secondo me è un fotomontaggio È da confermare Siamo perdere Però Però Ma come Mi dispiace Che non ci sia il pancio Perché lui sicuramente Avrebbe È disperso È disperso Tutto ora Ma infatti Ma è tutto ciò Ma il pancio Dove il sa Dicono che abbia festeggiato Ieri Per l'addio al pro club E sia ancora Dispeubreato Ma quella buffonata Che ha fatto Come addio Ma tra l'altro Stefano perdonami Scusami Roberto Perdonami Ciao Roby Quello se mette La maglietta Della tua squadra E tu non gli dici niente Ciao Roby Ciao Roby Ma come Che pancio La maglia della Roma Si è messo E che ne hai visto Eh sì sì E me meraviglio De voi Si è paragonato A Totti No Vabbè Io saluto tantici No Aspetta 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 Ma fategliela Ma ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Non posso replicare Fubre Sennò non funziona Sì no no Vai vai Non funziona Nervosissimo Impazzito Abbiamo domenica Mua c'è la Coddagnano Mua c'è la Coddagnano No no Sì sì Nel senso Sul Romagnolo Allora Mi dai quei numeri Che lui fa La mezza panchina A tre e mezza Tomori è forte Ma comunque Il Cezzi te l'ha regalato Al Calulu E Chiere Cacciato ovunque Compreso dalla Roma Quindi non è che ha fatto Una panchina Annesta E Coulibaly Capito Quindi che dati sono Lui è Il famoso capitano Imprescindibile Un fenomeno Stava in panchina Stava svincolato E con tutto il rispetto Damiano È andato a Lassio Camelio E quindi è nato Nella quinta forza Del campionato Camelio È quello Eh beh Squadra del suo cuore Io capisco Che per te è difficile Comprenderlo Giuseppe Che ha di cortesemente Uno spam Della coppetta Ecco Uno spam Della coppetta Cortesemente E nel frattempo Vado Don Manforte A Camelio Strano oggi Questa è una cosa strana Queste 19 partite Questo grande contributo Di un Milan Campioni d'Italia Romagnoli De dà con un Chiaire Con un crociato rotto E un Tomori Rotto È vero Me l'ha scordato De chi Come 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 Tomori rotto E Chiaire Con il crociato Andato E chi ce metteva Scusa in difesa Apposto Adesso Eccolo Se stavano bene Tutte e due Con l'anno del cazzo Ah ma che bordi A ste Ma se mi nonno C'eva tre palle E' un figlio Eeeh Ma scusate Ma perdonate Ma che discorso è Ma mi tocca Usare un'esternazione Come fa Camelio Qui O è 0-0 O vici sempre Ma no Romani Ma quando erano Di giulare Domani Stava in tribuna Quando erano tutti Non bruciamo il content Quindi non è un seumà Anche secondo me Non è un colpo Che cambia gli equilibri Comunque Secondo me Sposta Per me sposta A partire di scherzi A mia rispetto La difesa di quest'anno Dalla Lazio E' certo Romagnoli e Casali E' un'altra difesa Ma non è più forte Da cerbi Romagnoli Oddio 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 Partiremo da Romagnoli E finiremo col matrimonio Di Tocchi Eh beh domani si Domani sera Ci sta pure Le fonti Dei fonti Eh cercherò Di vincitarlo E' certo che ci sarà Dopo quello che è successo oggi Deve esserci domani Proprio Allora Ma chi ti dice che ci sto io Ma chi ti dice che ci sto io Domani a Fubbe Che parti con Vito Eh no Devi starci tu Romana senza ascio Una vergona Scusami Allora Ma io mi mando Camelio Che guarda che Camelio è Gagliardo E mi mando Camelio Che è Gagliardo Ma Camelio una sera A volte si collega dai ristoranti Non sei bravo No Camelio potete lasciar perdere Che idolo Con forza Con forza quark Camelio Raga fatti Sono imbattito Chi è che mi vuole battere A forza quattro Qui vi sfido Fatemi andare da Simone Fatemi andare da Simone Io mi lascio Allora ciao Henry Ciao Dami Ciao Asso A domani A domani ragazzi Ciao Ciao Sebastiano Ciao Simone Ciao Ciao ragazzi Allora Non so di chi Di chi tu parli No Ti volevo dire Non parlo con le persone violente Quindi non mi nominare Con la persona Che Ok Io non parlo Io con i violenti Non parlo Poi se vogliamo tirare fuori E aprire il libro Io non parlo con le persone violente Parlo con ragazzi bravi Ed educati Ok Non di chi si è macchiato Di episodi violenti Ok Conto persone deboli Io non voglio sentire Nominare certi nomi Cioè Non rispondo Non rispondo a certa gente Perché non Non fanno parte Proprio del mio stile di vita Di persone Ok Però se no Magari qualcuno non capisce A volte ci si Ci si sfiora No No Di Asso parlo adesso Ok Ok Non voglio Non voglio Visto che non rispondi A certe persone A certe persone Che hanno avuto O hanno condotte violente Io non rispondo Sono serio Cioè io non rispondo Con persone che hanno Stili di vita Diversi dai miei Ok Non Poi io faccio Va bene Chiudiamo Chiudiamo questa cosa qua Se dovessi rispondere Ogni volta Poi a che cosa devo rispondere Henry Io collaboro con cinque testate Ho rifiutato due programmi in tv Ho fatto uno A cinisello Ho rifiutato un'altra cosa Sono andato a calcissimo Top calcio Non mi trovo bene Ho tutto un percorso Che sto facendo Ti pare che io Ogni giorno Devo rispondere a chi A chi mi fa I dissing Nel senso Io sono Come dice Conte Io faccio il mio lavoro Poi Se vinco Se sono antipatico Non è un problema mio Ok Io guardo il mio Gli altri guardano il mio Sono già io che guardo il mio Sono già ipercritico No Dicevo che Io non parlo Come Come Parla Come mi ha fatto Mi ha scimmiottato Asso E Mi ha scimmiottato Malissimo Lui è un buonissimo imitatore Ma io non parlo così Non faccio quelle scene Perché non sono un isterico Lui invece è venuto molto bene Quella parte Lister Sai cos'è lister Henry? Lister No E' Pasqua Lister esatto Bravissimo In inglese è Pasqua In italiano In latino E' Easter e l'utero Quindi siccome io non sono uterino Perché sono un uomo maschio Quelle scene Non le faccio Quindi mi ha anche imitato male Faccio un sacco di trasmissioni Con Asso E quando sono uscito Mi ha attaccato In quel modo Ma può capitare Nel senso Fa anche parte del gioco In realtà Però poi bisogna andare sui contenuti E soprattutto bisogna imparare A usare l'orecchio Ad ascoltare Perché io non ho detto Che Di Bala Non possa aver trattato Con ABC Di squadre Ho detto E ho chiesto Più che dire ho chiesto Come mai Si è visto Entrare e uscire Il procuratore Antun Solamente dalla sede dell'Inter Della porta principale In zona Garibaldi Ho chiesto Non è che ho detto Cioè Voglio dire Io ho fatto Una Una Ho posto Un quesito Ho detto Ma Ho fatto un'interrogativa negativa Ma come mai le altre Come mai E quindi poteva rispondere Su quello No E quindi Poi ci ha fatto Credo che abbia fatto Uno scimmiotamento Della fonte Le fonti Che Evidentemente Funzionano Perché è tre anni Che hanno mandato Il sbattimento A tutto il web Poi mi sembra Di aver sentito Mi hanno scritto Come mai Come mai Sei ancora su YouTube E non sei su Sky Questo ti dimostra Quanto sia Caricato indietro Asso Quanto sia Boomer E quanto pensi Quanto questo Asso Che è tra l'altro Uno showman Molto bravo Come veramente La pensa ancora lui Questo ti ha fatto capire Che per lui Il punto d'arrivo È Sky Evidentemente Quello che io e Asso Pensiamo O la visione che abbiamo In questo caso Del calcio O di fare calcio È totalmente diverso Cioè per me Sky è qualcosa Che non esiste più Nel senso A parte le partite Che vedo Evidentemente per lui Un punto d'arrivo È la televisione Per me È già defunta Nel senso Sono molto Panciano In questo No Cioè se sono qua Perché sono ancora Su YouTube Perché mi diverto Faccio community E così Mi è sembrato Veramente un attacco Poco carino Ma lo dico veramente Anche perché Tra un'ora e mezza Lo rivedo su una trasmissione Mi è sembrato Un attacco Veramente in cui Ha perso il controllo E non è da lui E non sono arrabbiato Tutti possiamo sbagliare Ma Ma poi alla fine Alla gente piace anche Che si vada Sul contenuto Io È stato Chiaro Non è stato Un po' di content È stato Sì va bene Ma quelle scene lì Non le ho fatto No 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 Io sono un uomo maschio Quindi io quelle scene lì Non dico da diversamente virile Non le faccio Mi spiace Quindi Un'imitazione è venuta male Poi ripeto Contenuto calcistico Mi sembra poco Nel senso Io ho detto solo È uscito Ufficialmente solo Da una sede È vero o falso Questo giocatore Non ha 5.000 richieste Dicono tutti Da Cordella Lui Allora perché è uscito Solo dalla sede dell'Inter Era una domanda Ha risposto No Ha fatto le scene Le fonti le fonti Hanno mandato in tilt Tutta YouTube Ecco perché sono YouTube Per mandarvi in tilt E ciucciarvi le live Ecco qua Ecco qua Questo è il primo episodio Di Bergomi contro Asso Vedremo come si evolverà Grazie a tutti